Si chiamano caregivers, sono coloro che in silenzio dedicano la loro vita ad assistere, amorevolmente un familiare bisognoso di cure. Un lavoro fondamentale e spesso invisibile che vede protagoniste soprattutto le donne e sul quale intende accendere i riflettori il seminario Cure and Care al Femminile che si svolgerà domani, 21 aprile, dalle 9 alle 13 presso il centro Elios di Colonnella. L'iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità Provinciali in collaborazione con Provincia Asle di Teramo, Comune di Colonnella e Centro Elios gestito dalla cooperativa sociale La Formica. Il seminario va rivolto non solo alle persone specifiche ma soprattutto alle famiglie per chiedere per loro un sostegno, un sostentamento visto che questi angeli che sono meno fortunati di noi, come li chiamiamo, angeli meno fortunati, abbiano tutta l'assistenza possibile affinché la loro vita venga migliorata in quanto hanno avuto purtroppo delle limitazioni all'origine di cui non hanno assolutamente colpa. Noi abbiamo promosso questa cosa appunto, come ho già detto, per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ringrazio la nostra vicepresidente Zahira Raiola della Commissione che si è profuso in un enorme lavoro per l'organizzazione di questo seminario. Il Centro Elios è una struttura che ha una storia quasi trentennale ormai e che era rimasta, come molte opere pubbliche fatte in Italia, ahimè, completamente abbandonata fino all'inizio del 2011. In questo momento si è sviluppata molto la struttura, è gestita da un'associazione, come dicevo, che si chiama La Formica e che ha un'attività molto intensa e è stata così l'iniziativa della Commissione Pari Opportunità della provincia di organizzare in quella sede un convegno su queste necessità di coinvolgere in maniera molto più attenta le varie istituzioni, compresa appunto questa Commissione per le Pari Opportunità. Grazie. 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 Grazie.